Lian of Legends Ah no, Impaired Movement mi sa che non è quello Allora non funziona Quindi metterò come secondario Metti i biscotti Metti i biscotti Ok Sì, va bene Perché non amivia E non mi sembrava il caso Non mi sembrava Adesso vocali dovrebbe funzionare ragazzi Sono scannati io i vocali Ecco, funziona, nessun problema Non si deve mettere cose strane Dice stream elements Stream elements non è bugato Problema risolto Allora facciamo un'analisi completa Di queste bellissime rune Abbiamo Poppy, ok Nostra Poppy col Grasp contro Teemo Un po' meno ok È Trynda Quindi Leone e Trynda Con doppi exhaust in bot lane Ma che cazzo Io oggi con questo Mi pare che sia molto sbroccato Quindi va bene E Jax con questo Invece non lo so Secondo me è meglio E I press di attack Come Fizz con la cometa È fantastico ragazzi Fizz con la cometa è fantastico Riccardo non perdona Bravo 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 Tu non perdonare a nessuno Perché non se lo meritano Non l'avevo da tanto Simon C'è sempre in tutte le live Quando ho sete bevo Quando ho sete bevo Quindi non c'è nessun problema Non scappio nei clandestini Col dubbio e sosta È lui il clandestino Adesso ci pensiamo noi A lui Vi dico anche Live game Allora godiamoci un attimo questo Se il tempo ce lo permette Ok Allora Possiamo subito vedere che Zed Ha il 36% Non so se win rate totale Se è quello No non c'entra un cazzo Di partite con Zed evidentemente Vabbè Possiamo vedere che gente con Ah Ranked win rate Ok Ok forse il 30 48% di win rate Ok questo è win rate ragazzi Vabbè è tutto sulla media Alcune persone Tipo me Ce l'hanno positivo Strano Per una cosa che non sapete Se il tempo permette Hanno i pc di legno Voglio Hai ragione anche te Ok no Nulla di strano C'è gente in silver 5 Vabbè Ok Eccoci qua Eccoci qua Allora noi siamo support In conseguenza spelsif Ragazzi questo sarà un tutorial Su come giocare al meglio La propria bottling Vai andiamo Basso un po' Il climatizzatore che mi sto Raffreddando le gengive Mi pronuncio la lega dei smart È vero Locke Hai ragione Hai ragione anche te Come darti torto Vai Coveriamo Faranno sicuramente Un invade Invadete Invadete Zig zag Li metto qua Qua non passa nessuno Qualcuno che vuole passare Io non credo Allora Hotkeys Abitin summoner spell Tipo Dov'è communication Aspettate No non è qua Communication Ok Area sword Ce l'ha su Sulla L Ok Vabbè Allora Bronzo 3 È bronzo 2 In realtà Perché sto salendo Troppo Sto salendo Troppo di elo Ancora troppo Ma state tranquilli Usciranno Disloghiamo da Discord Usciranno Nuovi account Ragazzi Bro Vieni 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 Vai Avete preso un po' il cazzo Spero proprio di sì Potevo Cioè Aspettarmela no Perché è un po' difficile Aspettarsi sta roba Romperò il cazzo A lui Oh ma che cazzo vuole sto minion Vaffanculo Vattene Sì Sì leona Sì Sì Faccio capire io Chi sa portare Alfa Ragazzi Leona vieni Leona Ah no Ah no Molto bene Molto bene Cade nelle imboscate Eh non te l'aspetti Jin ma anziché Ok vuoi fargli paura Però farm Vai Beccati questo Ok Pingo che non ho la ward Tiro una Q Nella schiena Quello Dieci bellissimi gold Che li prendo Molto volentieri Bro Bro Non andà così avanti Non andà così avanti Che fai Vabbè Gli sta bullizzando Io faccio capire Trinda che non può Avvicinarsi al farm Bravo E mo si refulla un pochino E non ci posso fare molto Abbiamo il biscotto Il biscotto Il segnale temana E quindi si esconde Ok ci vuole un po' Spreccarlo Quindi Aspettiamo Di fare un po' di vita No vattene 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 Unlucky Io non so che fare Più di così Potevo fare flash Q su Trinda Ma avevo porre Di non arrivarci A lei non faccio Abbastanza danni Quindi Ha sbagliato il mio gin Eh vabbè Ce ne faremo una ragione Ha voluto Triardare Non so che mano S'aspettasse da me Sono un pic solido Eh però Fino a un certo punto Tutte tattiche Dei bronzi Eh sì Sapevo benissimo Che qua Trinda con le scarpe Ha killato Gin Ok Ha tirato lì Al gin Sì il flash Non l'ha usato Perché Non gli andava Semplicemente Non aveva voglia Di usarlo E come dargli torto Ragazzi Bella pick Ma il fight support È un pick solido La dici un po' meno Ma non perché Si è gin Perché è bronze Abbiamo notato Che work è più così Lui si fa armor Sì ma Non me morì Cioè ti prego Forse è ward Non lo so Sì luna Vieni a guardare Vai Facciamo capire questo Che Il territorio è mio Vai Vai bro Vai Let's go Atronzo Kill secure Non so più se ce l'avessero fatta O no Nel dubbio Ho assicurato la kill Io I danni ragazzi Di questo mal fight Troppo forti Troppissimo Lui è una mole Facciamo capire chi è Il supportante Sinzao è diventato un odc Ha sostituito trinda Ah ma tanto Non me lo manca Ha missato il carretto Ha missato il carretto Che cazzo Piede la rotellona Coglione Uh Il frutto Il mostro lo prende lui Eh no che non se lo prende Me ne lascio un po' Cazzo Uscite topi Prendi Ok iniziano a sentirsi da Uh Bordello Cazzo Perché non c'ho la ulti Fatevi prendere la ulti Cazzo Mi manca un livello intero Vabbè Tutti qua Tutti botlane Uh Uh Allora Ragazzi miei Zed Non va cacato di striscio Voi siete degli strozzi E quindi niente Tocca ammazzarlo da me Questo Incredibile Tocca ammazzarlo da me E non lo ammazzo Gin I said passively Eh ma non hai visto Come era passivo Era lì in front line Avessi avuto il flash L'avrei killato Però Pretendiamo un po' troppo C'ha anche le scarpe armor First item Ok E noi ce ne faremo una ragione Che gli E che siamo noi per Per dire di no Noi diciamo di sì Vai bro Ti aiuto a pushare Bravissimo Big solito per non pilare la DC Eh oh È quello che è ragazzi Che vi devo dire Allora No ability power Io vorrei farmi Ludens First item Quindi facciamo così E così Sì serve un po' Di ability power Ability power Ragazzi Comunque Peeling alla DC Ragazzi Cioè nel senso Vedete anche voi Come gioca Rischia la vita 24-7 Cioè Io non sono un angelo Micca Cioè sono Sono un sapo Micca l'arcangelo Gabriele Non lo so No Tiamo qualche culo Nella schiena lui Tanto c'ha armor Quindi insomma Mi rompiamo abbastanza il culo A questo punto di vista Forse ci faccia prendere la mente Guarda quanti danni Vai GG Ci penso io Gin Tu stai tranquillo Ci ho provato però Non serve a un cazzo Sto tipo Incredibile Non ho il flash Quindi neanche flash Vabbè L'ho smizzato Tutto da solo Non è poco Non è poco Sì ma push Dai che è in base Quello stronzo Figlio di puttana Tira mossa Allora sì Allora sì Vai Stop watch rotto Ragazzi Va a casa Dai Becca Uuuuh Mamma mia Ah ma allora Ce le hai le mani Pensavo dormissi No Tu te ne vai a fare in culo No ma non c'hai mana Dove cazzo vai Madonna Santa Miracoli non te li posso fa I miracoli io ne li posso fa Posso fa qualche kill Destra e sinistra Questo more Questo pure Eh copiate la rotella E sta zitto Zitto Ti devi sta Zitto Ma muoio C'ho lo stop watch Mi ingaggiano Non mi ingaggiano No Sì Forse Preferisce il brutal drake Vabbè io vado back Ciao Ragazzi È una partita difficile Però noi ce la possiamo fare Sono 3-0 Mi sa che il carry qui sono io E ormai dire che è chiaro Il carry sono ufficialmente io Questo la vendo Affanculo alle pozze Ability power Le pozze non sono danno È inutile il sustain Quando gli ammazzi prima te O se andrei che è alive Eh Se ne accorto Tardi Ragazzi Gin è scandaloso Gin Care Leona Has Six Ecco Proprio come i bronzi Io devi parlare Tranquilla E dici Guarda c'è questo Perché gli occhi Non ce li ha Di conseguenza Useremo noi gli occhi Oh se si faccia prendere Era meglio Cazzo Qua gli ultavo Oh si Eh non ce l'hai la ulti Coglione Coglione E mo pure te E mo pure te Ah Allora si Vai prendi il carretto Mate Bravo Vai Figlio di puttana Stando verso la top Benissimo Vabbè quindi Cos'hai risolto Facendo così Non è colpa mia Io sono stato fermo Cioè se lui riesce a prendere Chi Ma Ma stunnato Come ho fatto a killarla io Scusate Non importa Va bene Le spare caramalfight Sono spettacolari Ragazzi Ma posso comprare No Oh Eh allora Eh allora Eh allora Ok Beh Vado back Mo lo ingaggiano Guarda Mo io vado back E loro lo ingaggiano Ok Altra P Nah C'ho le scarpe Mi servono le scarpe Le scarpe sono forti Sappo Tra rischio Oh il ruolo è quello Cioè così c'era scritto In champ select Se poi non è quello Non lo so Pietro e rotelle Sta zitto Bravo Mr. Grobby Ragazzi Una cosa che magari Alcuni di voi Che non sono nel gruppo Telegram Non lo sanno Clippate Che l'editor Inizierà a fare I best of Ogni mese Quindi Con le vostre clip Si potrà fare I best of giugno Ci sta lavorando adesso Poi sarà best of luglio Agosto Eccetera eccetera Quindi ragazzi Clippate E' molto importante Ma non ci sarà più La cosa di clipare Solo per il gusto personale Ma effettivamente Serviranno per dei montage Quindi ragazzi Clippare E' importante Mr. Grobby Lo sa bene Lui clipa di continuo E' il master clip Vediamo che abbiamo Quasi la ulti Ho anche lo stopwatch Però un dive Non è proprio il caso Contro di loro Non mi sembra per niente il caso La rotellona si Madonna i danni Ok 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 buono Buonissimo Trinda sta pushando la torre E' lì Uuuuh Bitch Regà Clippate Allora Questo colpo di torre Voi fate la clip Così nell'editing Il colpo di torre Adrà l'alentatore E si vedrà Malphite che diventa dorato E si salva così Dal colpo di torre Report for troller Pensavo non esistesse più Sinceramente Eternal Ti insegna Mr. Grobby Tranquillo bro No This is metadumb They are just bad 39 viewer Magari è attaccato adesso Magari sta staccando Che ne sai Come dire Guarda ninja 200 persone Magari è attaccato In quel preciso istante Noi non ruberemo La farm al nostro DC Siamo dei bravissimi Bravo DC Farm Fammi prendere il 9 Vai che mi serve Una bella rotella potenziata Che fatica Per farmare Importante Che ce l'abbia fatta Vai Vabbè C'ho l'ulti tra 20 secondi E non sto ad andare in giro Oh che cazzo Sorry Volevo pullarglielo un po' Sono esplosi Vabbè Dove sta il problema Allora Vai Ok arriva fino lì Non so se è guardato Non penso Cioè nel senso Sono dei bronzi Cioè guardare qua Chissà Aspetto Malphite Che vola dalla giù Madonna Frinda Dai non so Adultarla Dai Oh Oh Qua qua Vieni 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 Ti ho guardato Ma me lo faccio Non ho v1 Magari con il red no Oh ma figlio di puttana Gin ho apprezzato lo sforzo Dai Ciao Sì 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 Esatto 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 Ciao ragazzi Sono il support Sono sempre io Il vostro support Like Ma sono Ho 24 stack Fra un po' finisco il Mejai Basta un assist Fizio First time Cosa sfottete ragazzi Che mi sto carriendo io Guardate i punteggi Sono 8-0 Agna Figli di puttana Vai bro Vai bro Farma Pasterino Cazzo Vai Sono tuoi Vai Farmali tutti Bravo Vai 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 Pusha pusha bro Pusha Vai che ci servono i soldi Di cazzo Ciao Siamo stati bravissimi ragazzi L'altra indigina è stata essenziale Come avrei fatto Voi siete scherzate Ma lui ha fatto Ha creato confusione Nella mente dell'avversario Voi non capite Per fargli pressione Esatto Solo per fargli pressione Ragazzi Solo per quello Allora andiamo Allora andiamo al Mejai Però non mi ricordo cosa fanno le stack Dov'è che lo spiega Vedremo pure So che aumentare la moving speed Mi pare Ma ho 309 No è la P Ho 422 Ok Uh Livello 11 Buono Ragazzi che Dove andiamo di bello C'è un Trinda da queste parti Trinda Oh sì che c'è Eccolo lì Vai Ok Trinda già sa Ah c'è anche Xin Allora Io direi che questo Lo facciamo sparire Mmm C'è l'auto di flash No Forse nemmeno ci arrivavo In ogni caso Pfff Vuoi 1 e 4 Non importa Allora No non ci dà moving speed Qua ci dà 25 Niente Ci dà P Tutti scappano dinanzi al grande Malphite Prendi Madonna Il grande Malphite fa paura a tutti ragazzi È un pick solido Come ho sempre detto È un pick solidissimo Un pick solidissimo Potrebbe arrivare qualcuno da qua Potrebbe arrivare Boh noi ci mettiamo la ward Ci piazziamo qua E vediamo se arriva Vediamo Oh lì c'è un pick Forse guardato Forse no Non è nel dubbio Andiamo a tirare un bel rotellone Diciamo Tini 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 Rotellone Ah Eccolo lì Non ho la ulti Oh What? Ah ce l'ho la ulti Ok Unlucky Non ce l'ha rifatta lo stesso Forse non ce l'ho sempre aspettato Fieri che hai fatto il geometra Non sai calcolare le distanze No è vero No è vero ho perso le stack Andiamo dal mio amico Andiamo dal mio amico xinzao Dovete andare a fare un culo Dove sei Leona Leona Via qua Leona Leona Che cazzo mi serve ancora Oh vaffanculo Posso prenderlo Finalmente Fiatelo Guarda che si fa la botrack Bravo ragazzi Vabbè Su lui l'infinity edge è fortissimo adesso Io me lo farei subito Prima di farmi la botrack Sinceramente Troppo forte adesso Ginn Io Io Ah bravo Non lo ha insegnito Bravo ragazzo Così mi piace La zonia la teniamo sul 3 O la mettiamo su un altro tasto La teniamo sul 3 Cazzo ce ne frego La ulti ce l'ho ogni 63 secondi Ah perché c'ho il 40% di cooldown ad action Effettivamente Mi trigga la mappa a sinistra Eh vedeteci Fare l'abitudine come l'ho fatta io Lì c'è un trinda Ok Vediamo un po' come risolvere la situazione Allora C'è una bella control Lì C'è una bellissima control E Penso che qualcuno abbia voglia di tirarla via No 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 Perché non arriva proprio nessuno Palle Dai che mi servono chi Le stack del Mejai Come le faccio Ma Teemo È un trattore Proprio top lane Solo top Mamma mia la ulti per leone Boh basta Cioè il game è finito Fin dalla ulti Io ho 17 stack Leone vi è qua Bravo Ma è lo zonia Non me la fatti va Perdo stacca gratis Perché sì Ce ne faremo una ragione Sono triste Sono triste adesso Ci faremo il Rabadon Leona colga Ho detto ok Sì Ci sta Questo Zed è uno scherzo Zed ragazzi Buono partita Non sottovalutate Zed Oh Un po' di chi da parte di avversari Oh Sì Volentieri Sì 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 Arrivo Avessi avuto la ulti prima Dio Cristo Niente Zero stack di Mejai Gine scrive trondita Ciao alle fire Ci saranno gli MLG Noi Montage Dei chiederlo Al signor Francesco Non credo eh È l'edito di MatroxS Quindi stanno best moments Alla MatroxS Logicamente So Scarso Assolutamente sì Bella carcioforo Timo è troppo avanti Ci ha farmato tantissimo 200 di farm Ha vissuto in top Come si chiama su Twitch Boh Non ne ho idea Sinceramente Noi comunichiamo tramite Facebook Arriviamo a tirare una bella ulti Riprendiamoci un po' di stack Dai Madonna quanti danni fa sto Teemo Comunque Che fastidio Che fastidio Che fastidio Questo è quello che succede anche a te nella minima app a sinistra Avete visto Ho cliccato Ho mandato sopra Tra parentesi Però Però Ci siamo fatti inculare Perché Teemo fa veramente troppi danni Sì nello scompaio E Teemo no Teemo sta Sta killando tutto Zedal Barrier What the fuck Aspetta la ulti In che senso Io ho ultato Brutto quell'ignite Nice Vado un po' a bot ragazzi L'avrei perso delle stack Mi ha fatto perdere tantissima AP Cioè ogni stack mi dava 5 di AP 25 stack 125 di AP Eh ho perso un Rabadon Le PTDR Ok 1-6-18 ragazzi La zona per fare il sasso dorato Bro Non la vedi Non so che dirti se non la vedi È lì La zona è lì Devo trovare l'occasione Mi servono delle stack di Mejai E mantenerle Tranquillo Ci sta a miscliccare Con gli occhi Capita un sacco di volte Io di danni ne faccio parecchie Però Non contro Teemo Però è arrivato Jax Insomma Cioè ne faccio parecchie anche contro Teemo In realtà Ne faccio parecchie anche contro Teemo Già Ah esatto Però mi scappato La ulti è solo tra 40 secondi Purtroppo Malphite è molto ultidipendente Specialmente full AP Dobbiamo andare qua in realtà Oppure back Cioè come preferite voi Non posso prenderla Non posso Sono da solo ragazzi State tippando lì Vengo a chiuderli Così dai mi faccio qualche stack Ma perché? Ma fate scappare sin così Perché questa cosa? E' male che ci sono io Guarda Fiatelo Ma va a suicidarsi Io farmo sinceramente Si Si suicida Eh vabbè Zed ha deciso di farlo scappare Ha fatto il buono Potremmo fare quello effettivamente Smart Molto smart Molto molto smart Bravo Complimenti Ci prendiamo questo Ci prendiamo Ah questo Io controllo che non ci siano rompiscatole da queste parti Eh l'ho preso lo stesso Volevo schivare il fungo ma non si può schivare Va bene Le stack ne ho due Meglio di zero Vai tutti Esatto Dai lasciamoci poppy contro il baron Bravi Ah 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 E' ritornato di flash dentro Basta ho fatto la kill Torno dentro Via Che bello Che bello vedere queste cose Bello proprio Bello Bellissimo Edz E Jean scrive Edz 2719 E scrive Edz Comic Dread Non è un problema L'importante è scrivere stronzate in chat Ricordate E fare l'abbonamento Nel caso tu ancora non l'avessi fatto Cioè non l'hai fatto Però nel caso non avessi fatto l'abbonamento Con prema qualche altro streamer Puoi farlo da me Ah Buona L'acqua Jean ha fatto una kill E non è morto Effettivamente incredibile ragazzi Bot c'è tanto farm Jean sta andando dritto per dritto lì Qua Nessuno vuole fare il bot Vado io ragazzi Vado io Ci va il support Non c'è Ah ci va Jax Ok Leona c'è una ward Togliela Leona C'è una ward qui Ok no Togliamo Via Ah Ecco Fatto Arrivo Ah sì Ah no Ah no Non posso mai nella vita ingaggiarli Mai nella vita Ora sì In realtà nemmeno quello era un bellissimo spot Ok Ma è andato bene È andato bene Non voglio rischiare di beccarmi un fungo di timo E quindi vado back Ecco Loro l'hanno beccato Se si beccato io lì morivo Bravo Fieric Posso uppare ancora di più questo Ma Non me ne faccio un cazzo Vado top Che è pieno di faro Nel rune come secondo ramo Non era meglio a domination Sudden impact E altrimenti Ririo ci più danno ragazzi A penetrazione Quindi mi per cento di cd Ora sulla ulti E non sa più cosa farmi Sinceramente Non so neanche Ah ho messo l'inspiration Perché volevo fare il malfight dorato E quindi mi sono messo l'inspiration Però sì Cioè nel senso Non è sbagliato quello che hai detto Anzi Molto buono Anche perché malfight È molto ulti di perdente Anche se Comunque il cooldown è piuttosto basso Il cooldown è comunque basso Però Non così tanto basso Quanto è un minuto? Ah beh 48 secondi È pochissimo Parecchio basso Però Un pelo più basso È sempre minuto Domanda Timo l'ho shotto Potrei Come potrei Non shottarlo Una cosa è certa Lo ingaggio L'ho shottato Ok Grazie KS L'ho shottato Qua ragazzi C'è trinda Bravo Ci va Jax Belli sti 509 Quanto cazzo tolgo? Ah ah Regà ma perché non la Ma qual è il vostro problema? Ti avrete perso la torre così? Ma te nemmeno guardano Come facciamo a prenderla Che abbiamo trinda in base Ci ha portato via tutti i minion Belli sti 509 E' VIVA Siamo tutti male Io non ce la faccio più, vi prego Basta Si può fare a telefono Sì, Comic Dread Devi praticamente andare nella versione browser Se fai punto esclamativo Prime Ti appara una bella immagine, c'è un link Che ti porta ad un'immagine che ti fa vedere Come puoi fare da telefono Saluto da Bologna San Vitale, bella Saluto da San Pino Ma ognuno è per i cazzi suoi Ma tu come cazzo si fa Meno male che abbiamo Poppi che li ha cacciati via Il 2-9, chi è il 2-9? Ah, lui, Jim, sì Ma ha 20 assist, non so che Oh, finalmente Però è che il Major è un buon inizio Ormai c'è Tmall 18 e sono al 17, per dire Lui non lo posso killare perché c'ha la ulti Fizz, me la doggia di E, di Zonia Ormai, ragazzi, è difficile killare tutti per me Bravi Ma tornate a casa vostra Eh sì Eh sì, ragazzi Mamma mia, il Malphite La caria così E la caria così E la caria così, ragazzi Il Malphite di quartiere e la caria così Clap, oh Vai Vai Kill su kill 20 stack Mejai Buono 19-7 Ottimo sacco Cosa vuoi dire Ottimo sacco Mom get the camera Allora E onoriamo ovviamente Poppy Perché sì Principalmente perché sì Io direi Ragazzi Di riprendere Un